Tornano sul parquet questa sera per il secondo appuntamento della fase a orologio Sansevero e Nardò, i neri di Becchi, vittoriosi all'esordio contro l'Urania Milano con un netto 95-80, saranno di scena a Casale Monferrato alle ore 20.30. Questo è un mini campionato da quattro partite, è un bisogno di tutti e queste gare si giocano con maggiore intensità, ha detto proprio Becchi dopo il successo sull'Urania di sabato sera. Riflettori ovviamente puntati su Sabin, vero e proprio trascinatore, Nardò invece va a Biella una sfida sulla carta molto impegnativa ma con Amato e compagni che preparano il rilancio dopo le otto sconfitte consecutive, l'ultima con Udine 91-100 al primo turno della seconda fase e un mercoledì da trasferta per le pugliesi di A2 con Sansevero e Nardò a caccia dell'impresa.